Per l'interno, per arrivare a Senigallia, così non devo pagare... Eh no, passiamo, sì, adesso ti faccio... L'autostrada, che tanto la devo pagare da Senigallia per Loreto, Porto Reganale? Dovemo andare, dovemo g... Dovemo g... Ah, ci facciamo una foto? No! Ma come no? Le riprese? Fanno urbino a Senigallia, cos'è? Ma quello è il bello, quello fa più viva la... Perché, guarda, sono pure raffreddata. Allora, questo... Allora, abbiamo scoperto che quello te lo fai scaricare dalla cosa, dalla... Sì. Lo scarichi dalle tasse. Vediamo. Niente. Niente. Vabbè, non è che potevano dare di più, però abbiamo visto... Sì, più che altro... Qualcosa sull'Eures che mi interessa, anche se... Devo dire, ho sentito anche un po' di chiacchiere vacque. Lei... No, no, è andato... Ecco, io la devo mettere qua al sospetto, André, scusa, ma... Io mi tolgo la giacca, scusa. Sì, sì. Anche non è puoto più. Quindi questo? Anche su tutto sotto, stamattina si è portato in fretta. Tu guarda, no? Voglio dire, Urbino è tre volte più piccola in Macerata... Macerata, dal punto di vista universitario, ma anche a Macerata c'è l'Università. Eh... In confronto è veramente... è stata veramente sempre morta a Macerata. Fa piano. Il culo butta alla destra. Esatto. Tutto a destra, Volante. Sì, altrimenti va. Tutto a destra. Sì, sì. Non so quanto spazio sei dietro. Sì, no, diciamo, prendiamoci la strada... La superstra, guarda, ce la fai, eh? Tutto a sinistra ce la fai. L'hai visto il video ieri che ti ho messo di Milano? Sì, sì, ma io ho seguito sempre quello. Ma io ne ho cercato qualcuno... Ce n'è una anche con Selen e un'altra... Eh, ho visto... Io ho visto quello con Abbatantuono e Bisio, che è carino. Quello non ho visto, mannaggia, di qua? Sì, a te ho messo quello... Di Valla Cortellesi, carino con... Infatti, perché lì potremmo essere io e te. Invece quello di Bisio e Abbatantuono l'ho messo a Bisio. Due per due? No, è che c'è la l'unica donna che ho visto. Perché poi... Quello di Bisio e di Abbatantuono c'è messo a Luzio. L'ho mandato a Luzio perché ho detto Allora, Bisio lo faccio io, anche per cose fisiche. Sì. E poi... Comunque erano carine. Sì, l'avevo visto qualche volta, però... E fino agli anni 90. Sì. Ho visto Guzzanti e Lagerini. Lagerini. Ah, ecco, quello no. Che carino. Corrado Guzzanti e Clavia Cerisi. Però guarda, a parte questo, a parte lo spettacolo che sarà uno dei nostri futuri possibili, sperando anche ereditizi. Io vorrei... No, mi piacerebbe, perché per esempio il discorso del progetto del video corto, però è sicuramente molto ambizioso. Urbino-Senigallia. Esatto. Stiamo adesso lasciando la mitica città di Urbino con le sue bellezze storiche e che il mondo ci invidia. Ma è il telefono mio. Potresti chiamare casa mia, per favore? Io... E cosa dico? E dire che stiamo contendo 0733? Ma io devo dirglielo. Sì. No, no, no. Io mi vergogno. No, adesso ci... No, ci puoi chiedere. No, ci puoi chiedere. Dai. Ma che ti diciamo? È il numero mio da casa lì, no? Dove? Ah, già, è vero. Ah, no. Vabbè, ma metto un bip, dai. Non farla schizzi. Hai ragione, ma... Sì, così dopo ti chiamano tutti. No, a me no, di certo. Dai, si sono persi il... Dai, dai, dai. Ce la fai a posare te? Se come fai? Bene, disci. Dai, che faccio... Due. Quanti? Uno. Senti, Francesca, dimmi il numero e poi lo cancello. Ti prometto che lo cancello. Mi fermo e lo... Francesca, dimmi il numero. No, mi fermo e poi lo fatti. Ma che sei qui a 007? Ti devi fare l'antiospionaggio con i cinesi. Anche, anche. Visto che sei paranoica, no? No, no, mi piacerebbe tanto. Sai quanto mi piacerebbe fare un corso come investigatore privato? Mi prete mazzano, però, lo sai, sì. Anche se non sono laureata Angelis Provenza? Sì, vai, vai, tranquilla. Ti dici, fanno 45, diventa dritta adesso. Sì, sì, sì. Diventa dritta. Ristorante cinese, nuovo sole. Questo ci stava e io ci sono andata. Ma più di dieci anni fa, purtroppo. Allora, di qua. Dritta. Allora, vedi dove c'è scritto Roma? Sì, sì, sì. Vai per Roma. Fanno, infatti io avevo fatto... E qui prendiamo la Iperstrada. La bandina avevo fatto Fanno-Urbino. E adesso facciamo... Fanno-Urbino, Senigallia. Prima arrivavamo a Fanno, ancora siamo a Urbino. Sì. E voi? Cannavaggio. Ti pensi che all'unità d'Italia Urbino faceva provincia autonoma, non era attaccata a Fanno? Non era attaccata a Pesaro. Vedi quante cose mi insegna Andrea. Se tu guardi la mappa delle province del Regno d'Italia, ti vedi che ci sono alcune province che sono diverse, tra cui Pesaro era una provincia e Urbino era un'altra provincia. Poi l'hanno fusa insieme, come hanno fatto anche con qualcun'altra, per me lo sento i Vercelli, l'hanno fusa con Novara, eccetera. Sì. Poi dopo l'hanno ridivisa, per fare i pastrocchi. Ma allora, non so se vuoi chiamare a casa, visto che te... Sì. Allora, io sono rimasto... Si sta tranquilla. Ho messo il prefisso più un numero. Il Charmelo sta tranquillo. Ascolta, ho messo il prefisso più un numero. Dimmi gli altri numeri, che tanto la gente non si ricorda. Poi metto un bimbo. Allora, no, dimmeli. Il primo l'ho messo il primo numero. Adesso mi fermo e lo faccio io. Non ho capito, sei parato in mezzo. Sì. Ti confermo. Devo guidare io? No, no. Guarda, ci vengono... Ci taglia la strada un albero. Eh no, veramente un autobus, direi. Non mi spaventarti di più. Dell'Ami. A-M-I. Allora, invece ti dico, la cosa del corto è molto carina. Cerchiamo di fare la sceneggiatura e se abbiamo i due attori non abbiamo più scuse, lo dobbiamo fare. Sì, infatti... Però a me è piaciuto molto. Adesso io ho il video dell'amica polacca, che ha detto delle cose, spero, interessanti, anche un po' di chiacchiere, forse. Assolutamente. Lo metto sul canale della Elpis, ce lo riguardiamo anche tutte e due, andiamoci a vedere bene i siti. Perché se effettivamente, se la comunità europea, oltre a spesare alcune nostre istruzioni, come è successo nel mio caso, che mi ha pagato sei corsi FSA, dritta. Sì. Ci paga o comunque ci finanzia la possibilità di andare a lavorare all'estero, fanno. Ecco, quindi vai verso tutto il canale, dentro il tunnel dell'Alma, c'è morta la Lady Di, eh? Perché te sei il Lady Di, scusa? No! Eh allora, che te frega? Era bellissima! Eh, come no! Però mi pare un po' troppo sfortunata, pare disgraziata, perché per l'unica volta che si era innamorata, poi alla fine è andata a finire tragicamente. Innamorata, sì. Innamorata, era innamorata, innamorata, sempre di più, sempre di più, innamorata di un musulmano e purtroppo la regina non le avrebbe mai permesso, era pure incinta, e secondo me la regina non le avrebbe mai permesso di portare a termine una gravidanza avuta un musulmano, scherzi. Io, l'unica persona che ho accettato che avesse la fisima della Lady Di, che ho amato molto il film, è Amélie Poulain, perché mentre muore Lady Di, gli casca la pallina e va a vedere dentro il muro, è tutta matta. Però il film è molto carino e c'è lei che è meravigliosa, forse come non sarà più mai, perché solo in quel film è riuscita a essere così, medesimata nel... Tutu. 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 Tutu, preta. Tutu, per esempio. Però il nome del personaggio era Amélie Poulain. Amélie Poulain. Amélie Poulain. E il personaggio che si cercava era Bredodou. Te lo ricordi? Bredodou. Penso che io l'ho cercato in inglese, il film non c'è, perché esiste solo in francese e hanno eccezionalmente la... Bisogna che invertiamo perché abbiamo sbagliato la strada. Dove devo andare? Di tornare a André. Quindi qui, girati e tornare a André. Scusa, André, però come vedi c'è una rottura di qui. Aspetta che c'è una macchina dietro. Vabbè, tranquilla. Sta cosa è la telefonata, me lo immaginavo, tagliala perché li conosco. No, vabbè, ma stai andando a casa. L'importante è che... Cioè, tanto quando uno guida, tanto dove voi andate? Da nessuna parte, è a Porto Reganaro. Però non è che uno ci parria tranquillamente. Devo andare a prendere il pane da Matteo. Un amico di Carlo. No, Matteo Renzi. No, quello che riesco a non vederlo. Matteo Renzi. Bravo. Quindi devi girare a destra. Allora, stavamo parlando... Tanto questa è la strada più veloce, Francesca, quindi non ci sono problemi. Addirittura saltiamo Pesaro, quindi facciamo un primo per forza. D'aria alla camera e quindi mi devo volare. Volare non si può ancora. Se voleva volare, invece che la mi, ti deva comprare un getto. Adesso domani speriamo che possa andare a fare le lezioni d'inglese a Tolentino. Guarda, fa una dolce sinta, diritto di qua. Di qua. Allora, no, di cosa stavamo parlando? Dell'Eures però ti stavo dicendo che mi interessa molto. Guardiamoci il video. Per quanto si sono parlati un po' addosso, la cosa non mi ha entusiasmato. Perché vedevo anche i ragazzi che si rompevano i coglioni. Figuriamoci noi che abbiamo 40 anni. I ragazzi si rompevano la scala. E ho capito, però è loro e fanno prima. Noi però, ho capito, sì ma se parli d'aria fritta però forse hanno ragione anche loro. Perché un conto se mi fai giustamente una lezione, una pseudo lezione magistrale su come andare ad accedere ai fondi europei, su come essere migliori nel territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Un conto se mi dici l'Europa è bella, vogliamoci bene, parliamo tutti inglesi. Non mi stai dicendo niente a me. Magari lo dicevano ai ragazzi. Detto questo, la tipa polacca, la bigotta polacca talebana cattolica sicuramente, come tutti polacchi, come tutti polacchi che sono tutti ossessionati del testo. Ascolta, questo è Milano, Milano, ascolta, io pensavo che al telefono era la produzione che ci diceva che strada dovevamo seguire, no, non è la produzione, è la famiglia, non posso dirvi, è famiglia, famiglia, non faccio il cognome. Francesca, sta cazzata, non ci crede nessuno, sappiamo adesso, va bene, è la Rai, è la Rai, vedi, quella che passa, guarda, vedi quella macchina lì, quella è la produzione che ci ha superato, perché poi stiamo andando piano, e ce n'abbiamo una dietro, quella era la Rai che ti chiedeva come stava andando, ah, ecco perché, perché tu alla Rai hai detto che sei da peso, adesso hai cambiato e loro ti hanno chiamato per quello. Siamo a Calmazzo, che è il paese di chi non fa un, cioè, che è calmo, Calmazzo, è il paese del sollazzo, della tranquillità, di tutti calmi. Sto mandando. Calmazzo, ti piace Calmazzo? Il paese? Oh, questa è la iperstrada gratis, che bella, gratis, è ancora più bella. Allora, no, dicevamo dell'Eures, quindi ci guardiamo i bestitini, impariamo bene e ci muoviamo, perché, visto che te mi dici che comunque non ci vuole la laurea per fare grandi cose, allora adesso vi faremo grandi cose senza laurea, come ha fatto Jobs, come ha fatto Gates, come ha fatto... Bisogna solo essere svegli come sei tu su queste cose, perché sei sveglio, e poi i laureati non li assumono perché li devono pagare di più, ok? Ma io voglio essere pagato di più. No, invece, altrimenti scendo a previ che... No, parliamo... Allora, sconfermate! Te l'hai visto il video che ti ho mandato ieri? Visto che hai detto che l'hai visto, ne avevi visto anche altri, ma l'hai visto il video ieri della Cortellesi e compagnia cantando? Sì, ho visto... Quali erano gli argomenti? Di cosa si parlava? Tempo, sesso, televisione, cinema e vate la pesca? Tipo, Berlusconi è decaduto, oppure, non so, quando è stata la tua prima volta? Le domande erano queste, non so se hai visto. Oppure la produzione, guarda, la telecamera è storta, Greg, che c'era Greg e quello dietro che era tutto tagliato. Invece noi qui ci stiamo tutti perché abbiamo preso il grand'angolo, perché noi abbiamo degli strumenti migliori della Rai, noi siamo la EGIS. Cioè, il mostriciattolo viene ripreso... Qui viene ripreso tutto l'ambiente, calmazzo, fano, la cosa... Poi devo stare attendo come muovo le mani, che c'è un mio nemico che dice che questo modo di muovere le mani è da adito dei dubbi, no? E io ho detto, vabbè, senti, l'importante è che se ne parli, poi bene o male, non me ne frega. Tanto la mia psicologa mi ha detto che non c'è quella questione lì. Vabbè, no, quindi gli argomenti possono essere di questo tipo qui, non lo so, io ti ho detto, allora, anche cose nostre, nel senso che il discorso dell'Euris mi è sembrato interessante. Abbiamo fatto un giretto, io ero contato a venire anche la Sara, facciamo due chiacchiere con lei. Certo è che bisogna essere giustamente più concreti, sia per il discorso che facevi tu domani, dopo domani, sia in regione, sia per altre cose, perché dobbiamo portare avanti questa realtà in maniera concreta. Non so, c'è qualche spunto su quello che abbiamo sentito sull'Europa? Perché io non vorrei che fossero anche un po' chiacchiere, in un certo senso, e vorrei invece concretezza, cioè, è giusto che tu... No, infatti ti volevo fare una domanda dopo, che riguardavo proprio anche l'Euro e l'Europa. C'è Grillo che vuole uscire, ma... Ma Grillo è... Proprio questo volevo chiedere. Allora, questa sera... Allora, io sono pro Europa e lo sono sempre stata, e in effetti è vero che la lingua ormai mondiale, quindi anche dell'Europa, è l'inglese. L'italiano, sì, è una delle lingue europee, però si comunica solo in inglese. Se io andato in Holanda... Però non mi puoi dire che la lingua madre è l'inglese. La lingua madre è l'inglese dei paesi nordici. Nei paesi nordici l'inglese si impara fin da piccoli. Noi, buona pace nostra, noi ancora non lo parliamo l'inglese. E se vai comunque in Germania, non parlerai l'inglese, parlerai l'inglese. Quindi diciamo che l'inglese è la lingua franca del mondo occidentale, forse del mondo, ma dire che la nostra lingua madre non è vera, è una sciocchezza linguisticamente, perché non è vero. Ma non è vero neanche per gli scandinavi, sicuriamoci per noi che non lo impariamo. Detto questo, sul discorso di uscita dall'Europa, lì l'amico Fritz, Alessandro, commissario europeo, cos'era, ha detto delle cose giuste. Cioè noi dobbiamo per forza essere europei, se no siamo ridicoli a livello mondiale. Però bisogna considerare due cose. Uno, lui giustamente difendeva la sua pagnotta, perché lui vive, perché esiste una comunità europea che gli deve mangiare, e quindi fa, è l'oste che parla bene del suo vino. Io non penso che bisogna uscire né dall'Euro né dall'Europa, però ci sono delle problematiche che vanno affrontate. Perché se no, qui l'Europa per esempio non riesce a avere i finanziamenti, quindi voglio dire, sarà colpa anche dell'Italia. Allora è l'Europa che deve un attimino armonizzare meglio. Ma ha fatto piacere sentire la polacca che ha detto che ci sono diverse, come dire, strutturazioni di rapporti tra la comunità europea e i singoli paesi. Perché la Polonia è la Polonia, l'Italia è l'Italia, la Spagna è la Spagna e così via. E quindi è giusto che i rapporti che la comunità ha con la Germania debbono essere necessariamente costruiti in maniera diversa rispetto a quelli con un paese come la Bulgaria. Non so neanche se... Cos'è che ha preso la... Adesso la Slovenia ha preso la moneta. Quindi è giusto che sia così. Ma l'Europa deve, proprio perché è grande, dovrebbe stare più inserita nei territori. Cioè avere più il polso del territorio, in Calabria, nelle Marche, eccetera. Quello secondo me è il discorso. Certo. Perché è vero che loro... Anche tu... Tu ti senti europeo? Io mi sento soprattutto europeo, ancora più che italiano. Però constato che proprio stando in questo paese qui vedo che... E quale motivo per l'Europa ti senti? Perché io le mie letture sono sempre state europee. I miei grandi padri, come dire, culturali... Cioè io se devo scegliere la letteratura vado su Shakespeare. Se devo scegliere la filosofia vado su Russell. Se devo scegliere la matematica... Sì, anche qualche italiano, non dico di no. Però la cultura angosassona e tedesca, francese... Quindi io mi sento molto europeo, c'è molto molto vista, culturale. Però non sto qui in Italia. Quello che voglio dire è... In Europa... Nella comunità europea ci dovrebbe essere libero scambio delle libere mezze. Ma ci dovrebbe essere, c'è già, libero scambio. Il problema dell'Italia, io lo sapevo che era una delle istante più europeiste. Come ha detto il tipo, da sempre. Adesso sta andando giù. E ha detto bene lui. Cioè l'Italia è stata imparata europeista per una certa forma di ingenuità. Che bello! Già vai in Francia, sono molto più schizinosi. Ma forse sono più realisti. Gli tedeschi lo stesso. Gli italiani, che bello, l'Europa, l'Europa. A lei che tocca invece spingere, e tocca confrontarsi non solo con il resto del mondo cinese, ma anche in Europa. Con la competitività dei tedeschi che avranno mille difetti. Ma sono più competitivi di noi. Perché il governo è migliore, perché è quello che ti pare. Ma sono più competitivi. Perché non sono corrotti. Hai capito o no? E anche che sono più compiti. Ci sono stati 30 anni, 40, da quando c'era la Zicci, Francesca, 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 ecco, Francesca, ecco, Francesca, tu hai letto mai il libro cuore? L'hai letto mai il libro cuore? Francesca, Francesca, l'hai mai letto il libro cuore? Dimmi di sì che l'hai letto. Hai studiato un po' di storia del regno d'Italia nella fine dell'Ottocento? Che perdavamo la battaglia di Adua? L'Italia è impreparata a essere precisa. Dai tempi dell'unità e anche prima. Nel libro cuore c'è una storia in cui c'è un ragazzo che viene in Italia, gli regalano i soldi, gli regalano i soldi sulla barca, gli regalano i soldi perché sanno che è orfano, gli danno i soldi, e poi cominciano a parlare tra di loro questi ragazzi di tutto il mondo che amano su sta nave. E cominciano a parlare male dell'Italia, che è corrotta, che è imprecisa, eccetera. E il ragazzo si incazza e gli butta tutti i soldi. Questa è una delle favolette del libro cuore, una delle storie lì. Ma questo cos'è? Che ti dà il polso di che cosa? Che già nel 1800 si sapeva... Che sembra che sia una cosa genetica a livello quasi genetico. No, è culturale, è culturale. Non è possibile, no? È una cosa culturale, sì. Però perché ci dobbiamo tenere alla corruzione? Perché la... E come se... Perché non dobbiamo investire? Le aziende devono investire. Ma tu, se tu sei bravo... Cioè, questo è il problema. Marconi sapeva fare una cosa, cosa ha fatto? In Germania hanno investito immediatamente. Marconi, sapevo... Ti sto dicendo, se mi fai rispondere ti rispondo. Le persone brave italiane, la maggioranza, molte, fanno quella che la fuga dei cervelli. Marconi sapeva fare la radio, è dovuto andare in Inghilterra a prepararla. Perché in Italia non l'ha voluto. Rubia aveva un bel progetto, premio Nobel, è dovuto andare all'estero. Ok? Quindi l'ultimo Nobel fisico americano è... Non so se ancora c'è la cittadinanza italiana, quello di qualche anno fa. L'Italia non... Non... Come posso dire? Non investe sulle proprie risorse umane. Non investe. Investe pochissimo. C'è una scuola carente, c'è un ambiente carente, c'è un ambiente corruttore che invece di premiare la qualità e la capacità premia gli amici degli amici e questo è sminuente anche quando ci sono le capacità. Le capacità o vengono soffocate o vanno all'estero. Quindi è il sistema Italia. Il sistema Italia. Antiricercatori. Allora, Grillo è un po' pulista che parla alla pancia della gente per fare voti. Molto semplicemente. Certo. Io che ci sono stato nei grillini, lo so. Ascolta a me un attimo. Come si cambia l'Italia? L'Italia si cambia solo se gli elementi migliori di questo paese restano in questo paese e ne prendono le redini in mano. Sia a livello istituzionale, sia a livello politico, sia a livello economico. Se questo non avviene l'Italia non cambierà. Ok? Quindi finché la gente andrà all'estero perché da sola, perché il ricercatore in gamba, da solo dovrà mangiare, non avrà da mangiare. E' ovvio che per mangiare andrà all'estero e farà bene. E l'Italia non cambierà. Quindi il discorso è o il governo di questo paese, imposto dall'Europa, oppure per scelta sua riesce a investire nei suoi elementi migliori, oppure l'Italia rimane sempre quella che è. Cioè un paese in declino, perché è in declino culturale, è in declino culturale e conseguenzialmente è in declino economico. Certo. Perché senza una cultura non tu non puoi curare una... Ma è da parecchio che è in declino economico. Certo, e infatti lo vediamo. Adesso c'è la ripresa, ci sono alcuni paesi che sono in piena ripresa e noi no. Perché un conto è la Cina. Certo. Che la Cina è ripresa perché parte da molto in basso, è molto più facile partire così. E tutti i paesi quando partono dall'inizio, anche l'Italia nel anni 50 aveva il boom, è normale partire in palazzo. Però la popolazione della Cina è il quadro più della nostra, cioè è grande, non so... E' venti volte. Ecco, 29 è anche dal punto di vista geografico più grande l'Italia. Sì, ma ti sto dicendo, tu non mi puoi... No, perché no. Non ti sembra che riprendersi non sia molto difficile. No, non è che deve riprendere, sta partendo da zero. Siamo noi che dobbiamo riprenderci. Loro stanno partendo da zero, quindi partono con più più slancio. Perché tutti i paesi che... Tutte le economie deboli, se gli dai le condizioni buone, si sviluppano. La di Giappone, che non è un paese del terzo mondo, sono 30 anni che è fermo. 30 anni di recessione, o di stasi. Ma è arrivato al massimo. Arrivati a un certo livello di economia avanzata. Poi non è che poi cresci continuamente. Poi arrivi al tetto. Però, anche considerato questo, la Germania, per esempio, sta crescendo. O come sta crescendo. Quindi siamo noi, che pur siamo abbastanza ancora... Però, anche se secondo te, perché sta crescendo? E perché... Secondo me, io non lo so. Aspetta un tasso di disoccupazione giovanile più basso rispetto al nostro. Nella disoccupazione non lo so. È molto semplice, voglio dire. Perché loro hanno avuto una politica completamente diversa. Quello ci vuole. Uno. Due. Non hanno avuto una corruzione simile per tanti anni nel loro paese. Due. Tre. Le loro aziende hanno investito sul personale e hanno investito sui macchinari, su tutto ciò che gli si è spinto. Ok? O da noi... Hanno investito. Hanno investito. Perché devono tenere chi è che lo cura, perché devono... Ma lì è la mentalità. È la mentalità. È la mentalità. E allora cosa vuoi fare? Non va bene. Ok? Allora? Cosa fai? Apri le teste? Sì. No, le teste non le apri. Sì, si devono aprire le teste nei confronti dell'Europa. Si devono aprire. No, io intendevo un'altra cosa. Perché non si va avanti. Francesca? Non si va avanti. Francesca? Anche per piccolezze così, tipo l'e-commerce, voglio dire. Francesca, allora, abbi pazienza. Adesso dovresti andare a investire, andresti in Cina, non andresti in Buana, no? Perché cosa? No, io investirò in Italia, perché sono italiana e l'Italia ha bisogno di, per quanto riguarda per i lavoratori, avere lavoro, di non essere casse integrati o in mobilità, ok? Scusami. In Cina hanno già abbastanza lavoro. Francesca, ascolta, lascia stare. Tu, l'imprenditore investe dove guadagna. Perché l'economia è fatta così. Ma certo, guadagna lì perché il costo della manodopera è basso zero. Non è solo questo, non è solo questo. Perché ci sono paesi in cui la manodopera costa di meno che in Cina. La Cina ti offre comunque, tutto sommato, un sistema che funziona. Sì, sono paesi ex comunisti. No, no, la Cina ancora lo è comunista, tra l'altro. Ma tu perché non vai a investire in Nigeria invece che in Cina? Perché evidentemente la Cina ti offre, ascoltami un attimo, la Cina, il paese Cina, lo Stato Cina ti offre delle garanzie migliori della Nigeria. Ma che sono queste garanzie migliori della Nigeria secondo me? Sicuramente in Nigeria c'è più delinquenza, c'è più corruzione che in Cina. Ma guarda che la Cina non è così corrotta come me. Sì, la Nigeria è quella. Già l'India, 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 l'India è più corrotta della Cina. E quando uno deve investire tra la Cina e l'India, preferisce andare in Cina perché c'è meno corruzione tra le altre cose. Ma eppure esiste anche la mafia in Cina? Evidentemente ce ne è di meno. La mafia è criminalità. Con la corruzione io intendo delle perturbazioni nei canali istituzionali per arrivare a costruire lavoro. Certo, per me mafia è uguale anche corruzione. Sì, ma per me la corruzione è quella che viene fatta al pubblico ufficiale. Cioè la mafia può corrompere, ma non è detto. Anche in Italia c'è la corruzione, ma non è che tutti i comuni d'Italia è tutto in mano alla mafia. Io ti sto solo dicendo, come ha detto l'imprenditore, che la Cina e l'India è meglio la Cina per investire perché c'è un sistema più funzionale. Tu sai con chi devi parlare, le cose vengono fatte, hanno delle richieste abbastanza forti perché poi loro vogliono che tu investi sul posto e lasci il know-how. Giustamente, non sono degli stupidi, non sono degli stupidi e loro ti dicono voi lavorate qui ma noi ci teniamo il sapere della conoscenza. Certo, il problema dell'Italia è anche questo, che purtroppo vengono tagliati i fondi alla ricerca, all'università, alla scuola. Abbiamo delle scuole adesso che sono in gravi difficoltà economiche. Quello è un errore, perché la Cina butta fuori 5 milioni di ingegneri all'anno. A punto dico che non bisogna dar vita a tagli, ma bisogna investire. Però Francesca, bisogna investire i soldi che ci sono. Non ci sogna smettere con la corruzione, perché non abbiamo i fondi, non ci sono i soldi da improntare per i servizi che veramente servono. Francesca, bisogna che sei pragmatica per ora. Tu non puoi dire basta con la corruzione, perché come dire basta con la mafia? No, basta con la corruzione, ma è la stessa cosa. È dilagante, da anni, 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 da 30 anni, è dilagante. Dopo ti faccio sentire così sentiamo un palla di più. Allora, basta corruzione, come dire basta mafia? Tutti vogliamo, basta mal di denti, tutti vogliamo, fammi finire, vediamo se hai capito dove voglio arrivare. E come dire basta mal di denti, voglio vedere uno che dice no basta mal di denti, certo basta mal di denti, ma dov'è che devi intervenire tu? Mi devi dire come. Come fai a investire i soldi che non ci sono? Allora tu hai un bilancio dello Stato che è tot. Tutti devono pagare le tasse. Come si fa a far pagare le tasse a tutti? Cioè il discorso è questo. Ma c'è l'editometro, è stato dato vita tanto a l'editometro e poi dopo non è stato messo in pratica. Allora, ma certo che non c'è la volontà, devono mangiare e rubare in qualsiasi caso voglio dire. Fino a quando ci teniamo le persone così, volentici così. La rai. Bene, allora buon segno. Si sa che finiva la batteria. Si. O era luffio? No, vedo se chi era. No, comunque, francese, allora i problemi di questo paese sono tantamente grandi che non solo bisogna sapere che cosa fare, che molti non lo sanno, ma poi bisogna sapere come farlo. Cioè combattere la corruzione, combattere l'evasione, combattere l'assismo scolastico, combattere quello che ti pare, ma poi bisogna vedere come farle le cose, perché questo è il problema. Perché un debito pubblico come quello italiano, un paese nella situazione economica come quello che è il nostro, già riuscire a ripagarlo è un'impresa titanica. Non dobbiamo farlo, dovremmo bloccarlo, non lo so come si può fare. L'Italia adesso non può investire perché i soldi li usa per recuperare il debito pubblico. Perché ogni anno noi abbiamo il dovere di rimangiarci 2, 3, 4%, non so quanto, del debito pubblico per arrivare al 60% del PIL. Siamo a 120, dobbiamo di mezzare il debito pubblico. Troppo lo so. Come fai? Allora, io personalmente penso, io sarei... Il debito pubblico è alto perché hanno mangiato e hanno rubato... Io però la domanda non ti ho chiesto come mai, io ti ho chiesto come fai adesso, al di là di quello che è successo, adesso io voglio la soluzione. Perché c'è il debito pubblico? Penso che tutti quelli che hanno sfruttito la storia d'Italia lo sanno. Perché? C'è Craxi e compagnia che l'hanno fatto. Il problema è che questo ci taglia la strada e il problema è come pagarlo adesso. Allora, un metodo sarebbe, siamo in comunità europea, facciamo parte della comunità europea, una parte del debito pubblico viene spalmato sugli altri paesi, italiano. Cioè facciamo un debito pubblico generale, ma voglio vedere se alla Germania gli sta bene una cosa del genere. Capisci? Perché te gli dici ai tedeschi di pagarci il nostro debito pubblico. Come so dire, il Wyoming, no? Il debito pubblico federale è di tutta quanta... La Grecia mi sembra che abbiano fatto così con la Spagna a me. Non gli ha regalato niente. Non gli ha regalato niente nessuno. Gli hanno dato un prestito. Gli hanno detto che non lo paghi. Ok. E vabbè, ma scusa, è come se tu ci avessi un debito di 100 euro. Ho capito, ma non cambia un cavolo. Scusa, non è che ti dico, guarda, c'è un debito di 100 euro, tu ti regalo 100 euro. No, ti presta 100 euro. E allora il problema però ce l'ho sempre. Eh, scusa. Hai ragione. È un cerotto piccolo. È un cerotto che ti permette alla fine del mese. Perché il debitore ha detto, oh, qui ho paghi. Un palliativo. O chiudiamo la baracca. Sì. Quello sì, ma... Quindi, io non lo so. Non lo so, perché la batteria è andata. Oh, pazienza, io ho questa gente ansiosa che vuole, vuole. Ma dentro alle 3, alle 3 sarà. Cazzo, cazzo. No, ma... Non siamo andati in vacanza. Non, mica siamo andati in vacanza. No, anzi. Siamo andati a fare una conferenza con gente dell'Europa. Deve vedere, devano veda, scusate. Scusate, dove siamo andati e che cosa siamo andati a fare. No, a girare così, per cazzo. Te lo vedo. Vediamo chi è che è rotto in cui non irà. Ma te, capita mai che te rompi i coi ogni la gente che ti chiama sul cellulare? A me sì. Ma solo? Ma solo? No, va bene. Solo? Allora, le persone... Allora... Della gente ben precisa, voglio dire. Allora, caldo. Quando io non ho la... Nella vita, ai miei, in realtà, non ho dato mai nessun grave problema, perché sono in realtà una brava persona, purtroppo. Sì, ma stavo dicendo un'altra cosa. E li abituati pure proprio bene. Allora, un conto sulle persone di vista, vabbè, le vedi, in monovisione, no? No, no, ci vivo proprio. Ho capito. Però ti sto dicendo, un conto è la persona che dà fastidio, un conto è la telefonata. La tente che capita è che le telefonate ti convolino con gli occhi, dette in maniera brusca. No, no, io le aspetto ardentemente. Dipende chi ti chiama, cazzo. No, ma da parte di tutti, mi fanno piacere, in realtà, perché significa che mi cercano. Ma guarda, io vorrei vedere... Mi fanno sentire viva. Vabbè. A meno che non è una cosa ossessiva, allora è un'altra cosa, però per fortuna, no? Un messaggio. Che cazzo vorrei? Tanto, sono sempre problemi le chiamate le telefonate. Non so a te, c'è un nuovo messaggio vocale per te. Non lo posso sentire con voi da me, eh? C'è la batteria che è morta, ma... Beh, allora, chiedi di chiamare a me se vuole parlare con te. Ma no, dovrei mandare il messaggio, quindi c'è la batteria che sta mattina, c'è uno sputo di vita e basta, eh? Niente, non è urgente, non muore nessuno. A me fa ridere, la gente è urgente, ma urgente è che? Urgente. Urgente è la morte, è urgente. No, speriamo che no, per carità, quella può aspettare. Ah, quindi hai paura della morte, bene, ti sa. Hai paura della morte, sei superstiziosa? No, ho paura della morte, ho paura dell'AIDS e ho paura delle malattie incurabili. Sei sempre lì, cazzo! Allora, hai detto tre volte la stessa cosa, hai paura della morte, ho paura della morte, quindi degli alieni che ti rapiscono e ti uccidono non c'hai paura. No, l'AIDS è una... Gli alieni, no, l'AIDS. Gli alieni, no, non è che mi mettono tanta paura. Il demonio, i folletti. Anche perché non ci credo, gli alieni... I folletti? I folletti mi stanno simpatici, perché già io sono una folletta. Una fatina folletta. Ci sono periodo io che ho fatto la domanda. Quindi... Un follettino. Perché secondo me prima a chiamarmi era sempre la Rai che diceva, allora ragazzi... Allora, chiama la Rai con il mio. Fate una... Chiama la Rai con il mio. Pronto? Pronto? Sì, siamo... Ma non siete dietro di noi? Siamo a Torrette. Sì. Io gliel'ho detto, ho voluto parlare solo di politica. Io per me... Eh, di cosa dobbiamo parlare? Sesso. Il sesso e l'amore sono una delle cose più belle che possono esistere nella vita. Mi pare che sul sesso ci andiamo tranquilli. Poi altre cose, però per il momento magari finisce l'argomento. Sesso e l'amore. Ditemelo voi, così almeno so di cosa dobbiamo tirare fuori. La cucina. Ah, i piaceri della cucina. Posso dire una cosa? No, politica no. Mi pare mi ha fatto assaggiare i piatti più buoni nei ristoranti più buoni della provincia di Macerata e non solo. A quello proprio gli rendo merito. Ma va benissimo, io potevo anche non venire. Lo amo. Cioè, chiacchiamo un po', capito? No, no, ma va bene. No, perché nella vita qualche peccato di gola bisogna farlo. No, non so di cosa sta parlando. Peccati? Sta parlando di peccato, deve essersi buttata sulla religione. Va bene, noi adesso facciamo questi tre o quattro argomenti, tanto tra un po' siamo arrivati. Ma il diavolo è meglio non pensarci. E niente, per l'appannaggio, il pagamento, me lo fate già stasera, sì? No, mi raccomando. Sono professionista, ma mi piace. Va bene. No, no, mi fido, mi fido. Va bene, grazie. Buonasera, grazie. Niente, ha detto che il primo argomento che hai tirato fuori può andare bene. Il sesso? Poi ne hanno suggerito i altri due. Ha detto, beh, intanto falla a parlare a ruota, poi quando si è esaurita, anzi, se vuole anche esprimersi fisicamente. No, no, esaurita, quello lo sono sempre stata. Se ti vuoi spogliare, ha detto, va bene tutto. No, no, spogliarsi, no, mai. Perché, vuol dire, con tutte le belle ragazze che ci stanno, c'è proprio uno stricciato, non lo deve fare, no? No, poi tra l'altro, questa è in prima serata, non so se si può andare a nuve. Eh, no. E poi mi ha suggerito altri due argomenti, ma intanto andiamo un attimo con lo sessuale. Suoi qua? Ha già finito il sesso? Eh, che vogliamo dire? Io perché ero al telefono e non ho capito cosa hai detto. Perché è bello, cos'è? Ho detto che il sesso e l'amore sono una delle cose più belle che possono esistere nella vita, a prescindere dai paesaggi, dalla possibilità di avere gli occhi e quindi guardare sia le bellezze delle marche, sia le bellezze dell'Italia, paesaggistiche in generale, perché ce ne sono tanti, in Italia ci stanno il 70% delle opere d'arte e questo è veramente una cosa in cui dovremmo andare fieri e orgogliosi, secondo me. Quindi sesso è bello, peccato che capita così di rado, non gli ho posso dirti la mia, la mia opinione sintetica sul sesso è bellissimo, se capitasse un po' più di spesso sarei più felice, però è bello anche così, così si apprezza di più. Il sesso con l'amore è proprio il non plus ultra, quindi quando uno è innamorato non capisce più niente, c'è qualcuno che non capisce, c'è qualcuno che non capisce o sempre innamorato oppure non capisce niente manco quando non è innamorato, io parlo della società, conosco gente che non capisce niente, non so se è perché sono innamorati, mettiamo una scusa che magari sono innamorati e non capiscono più niente, io non l'avevo capita questa cosa, mettiamo questa cosa più simpatica, ma allora guarda, poi dopo cambieremo argomento perché c'è gli altri, ti faccio una domanda, bella domanda, prima di tutto non andare a sbattere, perché è sempre una scelta ancora giù. No, però dove dovrai girare? Io seguirei i cartelli di solito. Guarda che c'è scritto, Marotta a destra, Marotta a destra, Ancona, se no ritorniamo a Pesero. Cerca di non andare a sbattere, grazie. Qui abbiamo spostato la macchina. Abbiamo visto i bellissimi paesaggi ordinati, purtroppo non siamo potuti arrivare alle cisane, alle cisane. Volevo dire, come ci si accorge, per esaurire l'argomento sesso-amore, credo interessi tutti i telespettatori, come mi ha detto il commissario di produzione, mi ha detto buttatevi bene su questa cosa, come si riconosce di essere innamorati. Perché non capisci più niente. Poi lo capisci quando sei attratto dagli odori dell'altra persona. Molto spesso alcune persone hanno una fortuna, la pelle sprigiona un buon odore. si lava. Ma non ti devi lavare. No, anche chi non si lava, molto spesso, magari ha di per sé una pelle che ha proprio un odore gradevole e del resto siamo animali, ragazzi. Siamo esseri umani, ma siamo animali. Scusami, te come donna sei molto più calivata sugli odori che sulla... No, non solo. Non solo, da tante cose. Quando uno si innamora, quando uno si innamora, non è solo attrazione fisica. che può riguardare anche gli stessi interessi, tante cose. No, però la mia domanda era un'altra. Perché ho sentito dire che gli uomini tendono a essere molto visuali. Sì. Cioè guardano molto, mentre le donne forse guardano anche... Guardano anche le donne. Sì, però hanno anche altri canali di preferenza. Di quale? Non lo so, l'odore per esempio, mi hai detto tu adesso. Sì, no, questo può capitare a me, mi è capitato insomma. Ti annusi il tuo uomo, ho capito. No, no, con una persona ero particolarmente attratto dall'odore perché era veramente... E stavi sempre lì a snusare. E lui diceva ma come vuoi? No, gli dava proprio fastidio invece in questa cosa. E ci credo cazzo, gli vai addosso e lo snusi, snusi. E tu sei un cane. Ma siamo come animali, sì ragazzi. No, ma te sarai... Come cani, come gatti. Ma anche dagli odori siamo attratti. Brava. Voglio dire ma i cani e i gatti... I cani e i gatti... Vai, vai, andavi, andavi. Te cani e gatti. Eh, potremmo andare però diamo la precedenza è meglio così. Anche a quello diamo la precedenza. Eh sì, ma sì, stiamo qua. Sempre meglio dare la precedenza a tutti. Però potremmo andare. Adesso possiamo andare. Ascolta cani e gatti ma quando fai la cacca poi la copri oppure tiri l'acqua? Come funziona? No, no, lì si tira l'acqua e non si vede, è una cosa sgradevole quindi... Eh no, il gatto, il gatto la copre. Beh, preferisco non vederla in realtà. Beh, il gatto la copre, c'è la lettiera, la copre. Va bene, allora cambiamo argomento. No, quando si conoscono Andrea, scusa, gli animali, i cani, i gatti eh, si annusano nel sedere, si annusano nel nasetto, si annusano. Ma guarda, cani e gatti che si annusano nel sedere, secondo me cani e gatti che si annusano nel sedere, la vedo più difficile. Magari cani con cane, gatto con gatto. Detto questo però, cambiamo argomento, cambiamo argomento perché mi pare che l'abbiamo esaurito. Esattamente. Che non vorrei che debordassimo nel pietato minori. No. Cane o gatto? Qual è l'animale migliore secondo te? Io ti dirò la mia, tu mi dici la tua. Allora, a me piacciono tanto i gatti, io mi sento molto un gattino, molto un gattino. Gli animali in realtà mi piacciono tutti, mi piacciono i delfini, mi piacciono le tartarughe, mi piacciono... I bagarozzi. Cioè, se fosse per me io... I topi di fogna. ... vorrei avere... no, quelli no. E allora non ti piacciono tutti? No, tutti no. I vermi, i vermi per quelli... Odio i pipistrelli. I verporetti. Un topo con le ali? Eh sì, ma mi fa schifo. Il topo, il topo non ti piace mai con il topo? No, mi fa schifo. Il verme quello... quello... Il verme un po' non mi sta indifferente. Quei vermi pelosi, schifosi che stanno sulle piante? Eh, quelli non sono gradevoli. Allora sei schifo, sei razzista. Anche i bruchi già sono molto più graziosi. Il brucco, sì. Il brucco peloso. Sì. Però in generale gli animali di solito mi piacciono tutti. Mi piacciono le galline, i bolli in generale, le oche, poi i maiali mi piacciono tanto. Come George Clooney. Sì, sì, sì. Allora, però rimani sulla domanda. Perché qui non c'è... Cioè, sei proprio un gatto perché non ti si può comandare. Ti sono un borde. Ti sei un gatto perché non ti si può comandare. Cioè, è impossibile. Vale per te quello che... Mussolini diceva degli italiani. Comandare gli italiani non è impossibile, è inutile. Sì, è vero. Invece nel caso tuo è impossibile. Sì, è vero. È l'unica cosa sulla quale sono d'accordo. Ecco, bravo. Voi comprare un po' di giacca. Con ciò che ho detto Benito. Per il resto, per fortuna che ha fatto. Io ti chiesi, ormai quella data, il tempore. Meglio un gatto o meglio un cane, secondo te? Dovendo scegliere. Gatto, gatto. Perché? Benché mi piacciono anche i cani. Perché no, benché. Lo sapevo io che non... Ma te, quando fai gli esami... Mi piacciono i gatti. Che la docente ti fa le domande, no? Devo girare? No, a sinistra. Quando tu fai un esame universitario e l'insegnante ti chiede... Certo. Ti chiede qua dove devi... La domanda. Adesso mi parli del fosco. No, no, io rispondevo subito e avevo tre risposte immediatamente. Quella che voleva quando sapevo qual era l'argomento. Allora, perché un gatto è meglio di un cane? Sentiamo un po' la risposta. Perché i gatti sono... Non hanno bisogno di... Coccole. No, hanno bisogno di coccole anche loro. Però... No, sono molto indipendenti in realtà. Questo è vero. Quindi... Non senti il peso della... Non senti il peso dell'accudimento del gatto. No. Infatti... Cioè, io lo dico molto sinceramente. Se economicamente me lo potessi permettere, io sarei molto bene lontana da casa mia. Cosa c'entra col gatto? Scusate. E dei miei. Perché il gatto è indipendente. Ma cosa c'entra con casa a destra? Vai, qua. Cosa c'entra col gatto? Io... Io ti sto dicendo... Perché sono indipendenti. Vai, c'è un po' di mal di denti, ma... Sono indipendenti. Cioè, tu hai fatto sto discorso qua. Sono indipendenti. Sì, ma cosa c'è... Ah, vorresti essere indipendente come un gatto? No, io sono un po' come un gatto, appunto dal punto di vista psicologico. Io sto bene da sola. Sinistra. Bene da sola. Sto bene da sola. Ti faccio notare che tu, è come se avessi detto... Sai, io ho un po' di mal di denti, ma se avessi un po' di soldi... E uno dice... Ti farei di mettere proprio i denti? No, prendo l'aereo e vado in Irlanda. Cioè, è la stessa cosa. Io, mi piacciono i gatti, se avessi soldi andrei a vivere da sola. Vabbè. Cioè, come sillogismo, complimenti, voglio dire. Ma vabbè, comunque sono abbastanza d'accordo. Sono indipendenti. Uh, che bella torre. Che cos'è qui? Qui stiamo. Qui stiamo fuori di Fano. Qui stiamo fuori di Fano. Ma te non hai girato le marche, non sai dove siamo. No, perché è Fano, abbiamo finito Fano. Sì, siamo fuori da Fano. Quanto è carina questa. Peccato che non la possono vedere. È la Madonna... È la Madonna. ...del ponte. È una Madonna. O sul ponte, ci ho scritto. È vicino al ponte, dai. Bella. Carina proprio. Peccato che sia proprio sulla strada, ma è veramente carina. Cioè, il mare alla mia sinistra, io adoro il mare. Adoro il mare. I gatti. Adoro il mare, i gatti, i cani, gli animali, eccetera. Anni Depp, anche da quello che so io. Va bene. Mi piace molto, sì. Antonio Pierce Brosnan. Vabbè, ma questi sono Scemenzi. A me piace... George... Posso dire... Posso dare una... Dove devo andare? Sempre la dritta strada. Mondolfo, la Scemenzi. A me piace Svitlana Paschenko. Ah sì, ho visto. Sono una bellissima donna. Io vi ho ormai consegnato quella splendida ragazza ormai laureata in matematica all'università di CEDESI. Ve l'ha studiato. Mi ha fatto anche qualcos'altro. Altro che le studentesse nostre. Io una Svitlana Paschenko non l'ho mai vista all'università. Mi è stato tanto a perdere tempo dietro agli studi. No, no, ho studiato matematica secondo me sempre. Ah ecco, ho studiato pure matematica senza un po'. Poi si è anche... Si è pagata agli studi facendo la Moderna. E' russa? E' ucraina. E' ucraina. I nomi in Enko sono ucraini. Eh, tante russe... Paschenko... Tutti i nomi in Enko sono di origine ucraina. E hanno un'ottima università. Infatti c'è un'amica mia su Facebook che si chiama Tkashenko che è russa, vive in Russia. E' russa però è di origine ucraina. Non so perché i nomi... come da noi... Prendolang. Prendolang è Veneto, attacca. Lo sai subito, no? E lo stesso i Enko sono nomi ucraini. Cognomi ucraini. Che poi dopo, come da noi, ti puoi spostare. Però se uno senti Manin, da dove può venire secondo te uno che si chiama Manin? Pure gente che si chiama Franceschelli, Marinelli, Caccianelli. Tutti i cognomi del centro Italia. Vabbè, i nominelli sono in centro Italia. I nomi con il loro articolo sono meridionali. Lo gatto, lo turco, lo russo, eccetera. Lo gatto, sì. Quelli con l'articolo di solito. Sì, sì. La malfa, cose così. Tutti gli immagini. Sì, sì. Sì, sì. Mi sono trascinato da un lettore di carte. Mi ha detto che vorrei incontrata una donna bionda e una mora. Io sinceramente... Sì, ne avrò incontrate, ma... Cioè, voglio dire... Vabbè. Quante ne hai incontrate, bionda e more? Ma bionda un po' di meno, forse. More un po' di più. Sai, io tendo un po' verso l'orientale, no? E qui sono tutte scure. Lì bionda e non... Io ho una preferenza per i mori, veramente. Mori. Oppure per quelli rasati proprio quasi a zero. Mi piacciono bene. Sono birilli. Tipo... Tipo... Tipo Bisio. Tipo... Bisio è simpaticissimo. È altissimo anche. È simpatico e alto. Siamo a Senigallia. No, aspetta, stai... Non ti agitare. Siamo a Marocca. Siamo usciti adesso a Fano. Cioè, è fisicamente impossibile dopo un minuto essere a Senigallia. Perché se l'hai fatto, vuol dire che abbiamo fatto un salto ipertemporale. Perché... Ci siamo tutti alle trasportate. Eh sì, sì. Perché abbiamo battuto... Cioè, neanche con la velocità della... No, con la velocità della luce se la faresti anche. Però saremmo anche dovuti tornare un po' indietro nel tempo. Che sarebbe comodo anche, perché almeno... Siamo partiti alle due e mezza. Alle due, anzi, non alle due e mezza. Sì. Scriviamo alle due. Eh... Meno un quarto. No, siamo tra Fano e Marotta. Sì. Perché prendendo la superstrada siamo usciti a Fano, ma Fano Sud. Quindi Fano non l'abbiamo neanche vista. No. Ah, Panasonic. Sì. Pensa che ci ho fatto... Non so se hai visto il video che ti ho mandato. Non te l'ho mandato. Sì. Ok. Cosa è successo però? Che io, dall'ultima volta che avevo fatto un video... Sì. Io avevo prenduto tre batterie, perché anche lì la batteria ti dura 20, 30 minuti, un'ora al massimo, poi... Sì. E non le trovo più le altre due batterie. Quindi mi sono comprato due batterie. Cioè, il difetto di questa videocamera... Alcuna. Il difetto di questa videocamera qui è che una batteria sola ci fai mezz'ora, tre quarti d'ora. che, se devi registrare un evento, è poco. Ma anche per questa va la stessa cosa, eh. Perché anche questa ti fa mezz'ora. Quando lavoravo con Daniele, ci aveva le batterie di ricambio per fare il matrimonio. Da 60 minuti. Qualunque macchina canon, tu una batteria sola ci fai mezz'ora, forse un po' di più, tre quarti d'ora, dipende di quanti... Ma... Non ci puoi lavorare. Ti devi portare le tre, quattro batterie di ricambio. Se vuoi essere. Perché non è che ti può rimanere anche un blackout. Certo. Quindi l'unica cosa che ti dico, se vuoi fare la Panasonic, che è una buona macchina, perché è molto... Sì. ...versatile, è che dopo, magari, se ci devi lavorare meglio professionale, ti fai almeno un'altra batteria. Costa un dodici euro. Sì, ce n'hai sempre una poi di ricambio, anche che metti sotto carica, eccetera. Se no ti dico, secondo me... Tra l'altro l'ho vista in Medita a 199, quindi io l'ho pagata un po' di più, forse adesso sta venendo una versione nuova. Sì, non è poco, però consideri che una macchina fotografica, una videocamera, ha un obiettivo con una buona apertura per il notturno, secondo me è una buona macchina. Forse... È impermeabile, quindi se ti casca l'acqua... Dopo Natale, quando iniziano i salti, forse c'è la possibilità... Eh, vedi, vedi... Chissà, proficceremo. La compreremo a nome della... Ah, si potrebbe comprare la nome dell'associazione. Giusto. Però, vabbè... Io ho preso... Una prova preparzionale mi ci vuole. Però se nell'associazione la usi te, non è problema. Grazie. Però la fatturiamo anche perché la usa l'associazione. Non so se c'è il metano qui, però... Bisogna che vai più avanti. Eh... Ascolta... Sì. Quanto metano c'è? Perché se no arriviamo fino a Senigallia, certo? Sì, allora... Ci arrivi? Sì, penso, sì. Lo facciamo. Ok. Ti ho fatto anche non fare l'autostrada così. Qui è il metano? È qui? Sì. È vero. No, questo è il metano. No, questo è per lavar... Sara. Ah. Sincere. Sara. No, quello è per lavar le macchine. Ah, e per te? Non è la colonia di metallo. Speriamo. Va bene. Altri argomenti? Se non ce ne hai altri, tiro fuori quelli della produzione. Però... Ma diciamo, come dire la produzione? A te non c'è niente... Me li devo inventare ancora. No, tu sei d'accordo... Eh, se ti volevo dire una cosa, sai che adesso c'è stato... C'è stata una protesta, un'enorme protesta, per la Col di Retti, anche a Roma. Per i soldi europei? No. Per il cibo italiano. Ci sono dei cibi italiani che vengono. Non fatti passare per gli italiani, ma gli italiani non sono. Perfetto. Cioè vengono in Italia, li mettono il marchio e vanno via. Sì, perfetto. Sì, sì, ma è una fregatura che fanno in tanti paesi. No, da un lato sono d'accordo nel senso che questo fa... È una fregatura per gli stranieri che li comprano. Sì. E poi effettivamente non è la qualità che hanno i prodotti italiani. Cioè... Certo. E' come la roba... Se io compro una roba made in Germany, deve essere fatta in Germania. No che ci metti il marchio e poi va via. E deve di passaggio. Purtrova un giochetto che non fanno solo per gli alimentari. Sì. Perché io so per certo che ci sono altre ditte che fanno dei prodotti in Cina, li fanno passare per San Marino o per altre cose. Ci mettono il marchio italiano di tutto fatto in Italia, ma non è vero. Sì, certo. Sì, sì, sì. Ed hai la qualità, con tutto il rispetto, più o meno buona, che è di un prodotto cinese, non italiano. E a volte... Non è buona perché è cinese e non è... Io non so cosa dire. Ti dicono che la qualità del prodotto cinese è più bassa... La finitura, diciamo, la qualità del prodotto... Proprio un modo per difendere il prodotto italiano, no? Dicono che di solito la qualità dei prodotti cinesi non è eccessa. Anche se... C'è qualcuno che mi ha detto... Sì, se avete l'ho detto, mi ha detto come un'altra amica mia cinese, quindi... Però, vabbè, questo secondo me è anche un po' di colunquisimo. Io credo che, giustamente, come tutte le cose, è anche vero che se tu un prodotto lo paghi poco... Sì. È ovvio che sarà di alta qualità. Sono sicuro che magari ci saranno dei prodotti cinesi di alta qualità che pagherai, però, di giusto. Perché sono esseri umani come gli altri e quindi, per quanto si facciano pagare poco... Alla fine... Cioè, se ti vuoi una Mercedes che per qualità è migliore di altre marche, comunque devi pagarti più. C'è il marchio, tutto quello che vuoi, c'è l'esperienza della Mercedes, ma c'è gente... L'Alanos Troyes per farla ci vuole due mesi. Certo. Non ci vuole un giorno. Eh, dopo la paghi, però. Paghi il marchio, paghi tutto quello che vuoi, ma paghi anche una qualità, in teoria, molto migliore. Poi, ne paghi molto anche il marchio sul discorso dell'Alanos Troyes, se siamo onesti. Però, è ovvio che se tu una roba la paghi molto poco, poi avrai quello che ci sono. Certo, certo. Quindi, detto questo... Qualità è da schifo. Il problema è questo qui, dei prodotti che hanno la falsa provenienza, per cui sembrano migliori di quello che sono, solo perché ci hanno... E dove mi devo mettere? Dietro al camion. Ok. Quindi, no, non ho sentito molto bene il prodotto italiano, però... Anche perché guarda, con tutto, io non ho mai amato molto mangiare. La produzione è la Rai. No, non è la Rai. È la... Il nome del programma, non è la Rai. Il Rai Luzio. Non è la Rai... Non è la Rai, è il Rai Luzio. Te sei l'ambrangiolini, allora non è la Rai. Ti conto che se cominci a essere grandicella, quando eri giovine te, c'era l'ambrangiolini che faceva il programma non è la Rai. Sì. Perfetto. Che tu guardavi sempre a Ducco, Ioni... No, ogni tanto si... Programma inguardabile. Vergogna! Si vergogni, allora! Si vergogna! Avevo 12-13 anni e mettevo in croce mia madre a casa perché... Tutta la vita... Volevo vedere quella schifezza. Ma... Ma c'è... Buon compagni! E lei logicamente non la voleva vedere un po' in. In questo caso, allora... Ebbe ragione. Si. Ciò che fa ragione. Ascolta, ebbe ragione. Io non ho mai amato mangiare invece. No. No. Io penso che mangiare sia una perdita di tempo. Io... Però ti posso dire che pur non essendo una buona forchetta... Sì. Nel senso che mangio quello che mi capita, non faccio altro schizzo in onda, devo dire che quel poco di cose che ho mangiato, forse sarà anche per abitudine, a quel poco di cose straniere che ho mangiato, non c'è niente che mi sia piaciuto come il cibo italiano. Cioè se devo uscire, preferisco il cibo italiano. C'è poca roba. Forse un po' qualcosa di messicano perché non mi dispiace la cina... Non mi piace tanto la cucina messicana. Non mi dispiace il... Non mi dispiace il... Piccante un pochettino. Mi piace tanto. Perché avevamo degli amici... Scusi. Degli amici meridionali che ci portavano delle cose piccanti. Il cebroncino. Che in parte assomiglia. Quindi posso dire... Ma già se mi dici il cinese con tutto l'affetto... A me piace il cinese. Anche la cucina. Anche la cucina. Anche la cucina. Anche la cucina. Pronto? Sì stiamo tornando. Quando sono a casa ti faccio uno scritto con il fisso. Va bene? Siamo a Marotta più o meno. Eh? Marotta! 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 Qualcuno ha capito che siamo a Marotta? Ma dopo l'abbiamo filmata. Te ne parlo a voce. Poca batteria perché... Come facciamo? Vieni giù te. Come siamo messi? Te lo porto subito. A Senigallia. Te lo sto portando giù. Dalla magnifica Urbino. Sì. Arriviamo alla bellissima Senigallia. Va bene. Ma guarda che noi siamo a Marotta. Quindi dieci minuti ci siamo. Dieci minuti. Se vuoi partì? Pronto? Stiamo a Marotta. È finita la batteria. Ecco. Se lo vuoi richiamare tieni. Eh ma non so il numero a memoria. Allora guarda. Cerca su Paolo... Basta. Non di quel cognome. No. Non di quel cognome. Però sto cercando di capire come funziona la... Pablito. No Pablito. Come si va nell'agenda... Adesso te lo... Aspetta. Guarda. Ma dimmelo la voce. Quello mondo. Allora se devi premere... No guarda da qui. Molto più veloce. Da qui. Ma che tecnologica. Ma che tecnologica. Vecchio quanto un po' il posto di questo telefono. Un Motorola V3. Pensa un po' quanto è vecchio. Io sono l'unica che non ho lo smartphone ma... Cioè me ne vanto. Perché significa che non penso sempre ed esclusivamente a quello. Ma c'ho ben altro a cui pensare. Non so io cosa penso. No c'ho ben altro a cui pensare. Devo studiare. Devo imparare a fare lezione d'inglese ragazzi. Quindi c'ho diversi pensieri. Poi abbiamo tanti progetti per l'associazione Elpis. Penso anche a quello e sono altamente motivata. Quindi mi impegnerò su quello. Porto bello. Sì ma te gli devi dare lo spazio. Abbiamo dato lo spazio. Tanta distanza di sicurezza. Allora scherzi. Ascolta. Tra un po' mi viene da vomitare. Ecco. Ecco. Io ti ho avvisato. Dopotepo come ti pare. Come si fa a tira sulla cornetta qua. A chiamare il tizio. Il cane c'è. Sì. No qui. A questo. L'hai trovato? Pronto? Ricci? Antonio? Sì? No guarda il programma ormai lo diamo alla Rai. Se voi ne facciamo una copia lo diamo a voi se vi interessa. Eh no ma siamo già parlando con loro. Sì? Eh. No. Non ti preoccupare. Vabbè. No. Non te la prendere. La prossima volta lavoriamo con voi. Dai. Dai. Ti devo salutare. Ciao. 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 è una bellissima giornata oggi piena di sud meglio che così non ci poteva andare ottime condizioni climatiche come hai detto la Daria niente ghiaccio sulla strada ottime condizioni anche di viaggio quindi Daria tranquilla ora siamo a Senigallia bellissima perché c'è scritto così grande Senigallia noi andiamo in centro in centro siamo arrivati Cesano Andrea io lo devo visitare perché ho visto un servizio giornalistico su TV Centromarche in cui si diceva nel cui servizio anzi il prete di una chiesa purtroppo non mi ricordo il nome la chiesa diceva che la chiesa contiene un dipinto del padre nostro che è del 400 del canovaccio ecco il canovaccio pure e io non l'ho vista non ci sono stata mai ma chi è sto canovaccio? non esiste il canovaccio non esiste il canovaccio scherzo il canovaccio no no è stato attribuito e c'è anche un'altra opera non mi ricordo di che periodo che è stata attribuita a Giovanni Santi il padre di Raffaello quindi Andrea per favore la prossima volta mi dici dov'è Cesano ci vado Cesano è il quartiere che stiamo attraversando in questo momento ci vado e vado a vedere queste due bellissime cose questo quartiere che noi stiamo attraversando è il Cesano perfetto allora portami nella chiesa la chiesa bisogna vedere come si chiama per dire più di una io questa cosa non ci faranno mille chiese una sicuramente non può essere perché è moderna quindi non può essere quella no la escludiamo andremo quando potrò a vedere subito questo dipinto che è stato attribuito a Giovanni Santi perché sennò che guida turistica sono scusa se non mi informo nemmeno e non conosco alle perfezioni le bellezze artistiche marchigiane qui abbiamo il bar Frank qui c'è un locale che è stato chiuso guarda qui c'è un locale che è stato chiuso per prostituzione il Monello poi c'è la clinica veterinaria noi andremo a vedere le bellezze qui c'è il concessionario Ford ti stanno facendo un accessorone la Ford americana è marchigiana? capito va bene il palazzo qui c'è Autolandia invece non ci interessa noi ci interessano le bellezze artistiche delle marche in quanto associazione culturale qui c'è un cartello dell'ipercop qui c'è Lucertini Sark già la Cop ci potrebbe interessare un po' di più perché è una cooperativa di Bologna nazionale nazionale ricca molto più attenta alle questioni ambientali e biologiche ah è grosso con una roba grossa sì cose molto più importanti a casa scoccia noi siamo quasi arrivati a Senigallia abbiamo litigato? se c'era Paolo avevamo litigato non è voluto venire non è voluto venire ci l'ha fatto senza la prossima volta portiamo anche lui se se il pubblico è entusiasta faremo un altro video anche perché c'è da fare da metà posto i video dell'Università d'Urbino sì bravo grazie Andrea non so come ringraziarti per tutto questo lavoro che fai no ma che cavolata è una cosa preziosissima che fai tu fai un lavoro enorme te la ringrazio che scherzi dove devo andare adesso? siamo sempre dritta però non andare a sbattere qui c'è la farmacia dove tu hai comprato i tuoi prodotti io ci arriverò con il metano con questo metano dove? fino ancora a Porto dei Canati no allora ecco come stiamo adesso tu vieni dietro a me sì ah grazie se me lo mostri devo fare un saluto a casa per dire che sono ancora vivo perché non ho detto che non rientravo e poi prendo la macchina e andiamo a pescare qui è il metano? non credo ma avevi portato quella volta a fare il metano non mi ricordo se te non ti creasse problemi andare invece che in autostrada a puntare verso Ancone e prenderla più avanti l'autostrada se non hai fretta tu su questa strada qui se vai sempre verso Ancone ci vai a sbattere sul metano perché lo trovi però devi uscire da Senigallia e puntare sempre verso il sud cioè devi stare su questa strada qui non devi girare qual è la strada più breve secondo te? l'autostrada? l'autostrada prima poi la dovrai prendere voglio dire se devi arrivare dove dire a macerata a Porto Recanati comunque è lunga però non devi prenderla per forza Senigallia la puoi prendere ad Ancone l'autostrada ti crea problemi? no se non ti crea problemi la cosa migliore è che tu ti riusci sempre avanti no? su questa strada qui adesso te la faccio vedere però arrivi alla metà se no andiamo da un'altra parte anche comunque è uguale andiamo in un posto che sta qui a Senigallia però dopo ti ritrovi a Senigallia si capace a trovare l'autostrada di nuovo? l'autostrada c'è scritto lì ok se no più avanti non la trovo adesso un distributore di metà il distributore che ti dico io bisogna che passi da tutta altra parte comunque mi devi venire dietro secondo me io non fa niente dai allora vado giù direttamente no no ma ti faccio vedere no no non fa niente però facciamo una cosa guarda ma è ancora attiva che cosa? sì certo perché non arriviamo dopo non preoccuparti faccio come faccio come nei cosi nei Milano-Roma faccio itali anche perché non è che può stare poi che non sarà stata mezz'ora 40 minuti ma non è affatto 40 minuti è solo 18 lei deve dire così povero Andrea un cinese dove dove? sulla nostra sinistra io a essere sincero preferisco le cinesi femmine femmine i cinesi maschi già un po' di meno mi piacciono le cinesi femmine le europee femmine il cinese maschio l'europeo maschio non so dirti che cosa e perché non so spiegarti il motivo però c'è qualcosa che non mi convince che non mi attira perché non mi convince e allora c'era il cinese e la miseria qui siamo in mano ai cinesi io faccio come tiro un po' gli occhi se vieni a Porto Sant'Elpidio sai quanti negozi cinesi incontri vabbè io avrei bisogno di fare i soldi con i cinesi qui ci fermiamo perché c'è lo stop è anche rosso esatto no è verde è ora è verde e allora possiamo ripartire con calda io ho solo in posizione delle mani ho fatto venire verde io ho un potere sui semafori allora verrai sempre con me mette porto sempre dietro allora mette porto ascolta mette porto adesso facciamo una cosa molto bella tu mi vai in via Andrea e ti fermi io entro prendo le chiavi della macchina prendo la macchina e ti vengo avanti grazie e ti porto a fare in metà grazie tanto se tu vuoi pensare ad un ultimo argomento che ti mi aspetti ti lascio la macchina geografica e ti butti giù sulla discesa qua quale discesa qui subito sulla destra prima del ponte dove vedi che c'è il singolo del fiume quindi rallenti eviti di andare contro questa macchina che sta facendo la salita no ti do la precedenza no ma ci passi ci passi basta che tieni se non hai ci passi ma non devi avere no Andrea in maceratese sarebbe o provincia in macerata o monte castiano devi andare dove c'è il camion non c'è bocchio dove c'è il camion un camion un camion non ci passo non ci bocchi allora non ci bocchi tu adesso tu dovresti fermare qui in ogni punto ogni punto è buono mettiti dentro quella macchina ah la tua yota si no Volkswagen ecco ma troppo avanti sei andata non so di qua troviamo qui oppure guarda no vabbè aspettati perché se arriva una macchina che mi aspetti devi infilare qui metti le quattro fila e ce la glia subito esatto senza distruggere la macchina magari dammi un secondo solo io arrivo subito così non va per me che Luzio è che Luzio vorrà sicuramente l'attivazione un'altra macchina e che tanto quella mi serve lì arrivo subito si è che Grazie. 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 Grazie.